L'Escano se raccava con una giornata e un'ammenda di 500 euro. A Chiavari, mercoledì ore 20.30, l'attaccante italo-argentino sarà molto probabilmente ripiazzato da Cuppone. Altresì, ai margini per un turno, lo slovacco Mesic e ben tre calciatori da l'entella, Ramirez, Sadiki e Sietunis. Si ripartirà dalla 2-1 che non mette al sicuro ma è un risultato pesantissimo perché ottenuto in rimonta, soprattutto in 10, dopo 60 minuti senza dubbio complicati. Testa, cuore e gambe. La condizione fisica continua a fare la differenza. Era già accaduto contro Picerno e Virtus Verona. Per circa un'ora però partita, come si diceva, difficile. Subito aggressivi, i Liguri non permettono le solite giocate bianchezzurri che accusano difficoltà evidenti nella prima costruzione. Palloni persi banalmente, errori tecnici ma anche poco movimento senza palla sulle catene. Gli esterni d'attacco mai messi nelle condizioni di provare l'uno contro uno, soprattutto in avvio il gol regalato con una serie di omissioni che chiamano in causa un po' tutti, plizzari compreso. A fine primo tempo l'enorme chance di rimediare dal dischetto ma l'esecuzione di Lescano non è impeccabile. Borra intuisce, rispinge e compie un vero miracolo sulla tapina di Cancellotti. Più o meno lo stesso cliché in avvio di ripresa. Liguri ad un passo dal raddoppio in due occasioni con Zamparo subentrato a Meazzi. Poi il guizzo di Merola che pareggia i conti. Nei quasi 30 minuti finali il Pescara, sebbene in 10 per l'espulsione di Lescano, gioca meglio da Lentella. Usa la testa e vince meritatamente. Sale in cattedra un sontuoso rafiat. Assoluto protagonista il Franco Tunisino che ricama per Aloy appena subentrato a Craia. Di testa l'ex Avellino segna un gol tanto difficile, quanto importante. E la rete del sorpasso. Al resto ci pensano i cambi illuminati di Zeman. Dentro Colai e Cupone ad attaccare gli spazi in contropiede. Come detto Aloy ha conti fatti decisivo. Soprattutto Morra che si piazza davanti alla difesa per scandire i tempi della manovra. E schermare prima Ramirez, poi l'ex Clemenza. Insomma il Pescara non si snatura ma gioca con intelligenza e non corre alcun rischio sino al 96esimo. A Chiavari però mercoledì ore 20.30 vietato perdere. In caso di sconfitta di misura con qualsiasi risultato, i gol in trasferta non valgono doppio, passerebbe Lentella come testa di serie. Non sono previsti i tempi supplementari.